Sarà un autunno caldo, caldissimo, quello sul fronte occupazionale della provincia di Salerno. L'allarme arriva dal segretario della CGL, Maria Di Serio, preoccupata non solo per le vertenze già note, per esempio quella clamorosa legata alle sorte del pastificio amato, ma anche quelle incipienti, e cita la Di Serio, in questo caso, la multiservice di Pagani. E poi ci sono i dati preoccupanti, se non di più, diramati dai centri per l'impiego salernitano, che segnalano per la provincia un calo di quasi 13.000 unità rispetto agli occupati del primo trimestre del 2012. Nel periodo gennaio-aprile 2013 sono stati avviati al lavoro 50.454 persone, esattamente 12.859 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel dettaglio, gli avviati a tempo determinato sono stati 37.950, ad aprile 2012 erano stati 46.000, mentre gli avviati a tempo indeterminato sono stati 12.503 a fronte dei 17.000 dell'anno precedente. Nel 2013 sono cessati 30.346 posti di lavoro, dei quali 18.450 a tempo determinato e 11.896 a tempo indeterminato. Purtroppo il fatto di sapere che un autunno caldo per tutta l'Italia non può certo confortarci. In provincia di Salerno esplosa adesso la questione del pastificio amato con tutti i risvolti molto delicati da tenere ben sott'occhio e capire effettivamente che cosa accadrà, ma anche che cosa c'è dietro a tutta questa insicurezza che sta portando a aperture, chiusure, ripresa, lavorazione e interruzione. Giochi che spesso si consumano anche sulla pelle dei lavoratori? Giochi che si consumano sulla pelle dei lavoratori e io direi di fermarci qui per il momento. Ovviamente ci sono altre vertenze importanti, c'è in sospeso quella della CSTP. Abbiamo la multiservice che andrà in sciopero il 26 settembre e che è un altro problema aperto per quanto riguarda i servizi che dovranno essere dati nelle menze scolastiche e così via. Alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico c'è anche tutta quella che riguarda la situazione dei precari della scuola, ancora dei tagli per la provincia di Salerno? La CGL tiene monitorata la situazione? Sì, anche su questo ci stiamo riservando anche un approfonditamento con dati certi su quello che accadrà, però si prospetta una grossa difficoltà sulla riapertura dell'anno scolastico. Per i tagli, soltanto ieri abbiamo già manifestato questa difficoltà di una classe con 39 alunni di cui disabili, ma questo è la punta dell'iceberg. Ci sono una serie di difficoltà che coinvolgono la scuola direttamente, ma ovviamente la vicenda CSTP ha una ricaduta anche per tutti gli studenti che si mobilitano per andare a scuola sul territorio salernitano. La questione multiservice, anche questa, va a minare quello che è la ripresa di un corretto anno scolastico. Insomma, diciamo che le famiglie avranno qualche angoscia in più quest'anno per i figli che vanno a scuola.